Cari studentesse, cari studenti, l'anno accademico che ci apprestiamo ad affrontare sarà caratterizzato dalla fiducia nel recupero dei normali rapporti che costruiamo come comunità universitaria attraverso la didattica, dall'incertezza rispetto agli andamenti epidemici, dalla ripresa dell'attività didattica in aula. Da settembre la ripresa delle lezioni, dei corsi di studio triennali, magistrali, magistrale al circolo unico saranno tutti in presenza. Solo la didattica integrativa potrà essere svolta in modalità online o ibrida. Ho chiesto a professoresse e professori, capitalizzando l'esperienza e le competenze acquisite in questi mesi, di proseguire la pratica della didattica con il digitale attraverso piattaforme e tecnologie informatiche di supporto all'insegnamento in classe, garantendo la continuità nell'apprendimento e nell'inclusione. Tramite l'utilizzo di Moodle per condividere informazioni e materiali di apprendimento, sviluppare esercitazioni e forme di autovalutazione. Nelle schede degli insegnamenti sono indicate nel dettaglio le modalità di svolgimento della didattica e delle valutazioni finali. Aule e laboratori saranno impiegati fino alla loro massima capienza, attraverso la prenotazione del posto mediante il sistema Student Booking presente, salvo diverse indicazioni vincolanti derivanti da normative. Tutti gli aggiornamenti relative alle misure adottate da UniURB saranno disponibili sul sito di Ateneo. Il mio augurio è quello di incontrarvi presto a Urbino alla ripresa delle lezioni.